Uno studente di 20 anni e un adolescente di 12 sono rimasti uccisi negli scontri con la polizia avvenuti stanotte nella piazza Taharir del Cairo. A scatenare l'intervento delle forze di polizia, il tentativo di aprire una breccia nel muro eretto a protezione del Parlamento. Numerosi testimoni riferiscono che gli agenti entrati nella piazza hanno sparato nel mucchio e bruciato le tende dei servizi comuni. Da venerdì, quando la protesta ha ripreso vigore, si contano almeno 15 morti per gli scontri con le forze dell'ordine, mentre secondo fonti militari le persone arrestate negli ultimi cinque giorni sono almeno 164. Un comportamento più rispettoso dei manifestanti è stato chiesto all'esercito egiziano da Hillary Clinton, segretario di Stato USA, e da Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite. Grazie per la visione. Grazie a tutti.